La Civitanovese riceve al Polisportivo il Sora inseguendo un successo che manca da ben sei partite, 19 ottobre 1-0 nel derby contro l'Ancona al Delconero. Le buone prestazioni contro Chieti e Termoli hanno fruttato solo un punto e i Rosso-Blu si ritrovano all'ultimo posto in classifica in compagnia di Notaresco e Fermana. Sante Alfonsi vara un coraggioso 4-4-2 con esposito e buona voglia esterni di centrocampo. Padovani e il 2004 bevi l'acqua in avanti, dirige Mammoli della sezione di Perugia. Al decimo manovra Rosso-Blu che si sviluppa sulla corsia di sinistra, cross di prima intenzione di Rossetti, difesa laziale colta di sorpresa e correzione vincente di buona voglia che sblocca la partita. 1-0 per la Civitanovese. Al tredicesimo pronta replica del Sora, Marchetti dal limite, scheggia la traversa. Ancora Marchetti al ventiduesimo, entra in area dalla destra e mette al centro Diop, salva alla disperata. Ancora Diop pericoloso sul fronte opposto al trentacinquesimo, va a schiacciare di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo con palla di poco a lato. Al quarantaquattresimo la squadra di Alfonsi si mostra ancora minacciosa su palla inattiva. Padovani cerca l'anticipo aereo sul primo palo ma non inquadra la porta. Squadre al riposo sull'1-0. Neanche un minuto nella ripresa il nuovo entrato Fagotti ha sul piede la palla del pareggio ma Petrucci compie un intervento davvero provvidenziale. Partita decisamente più vivace e ricca di occasioni rispetto alla prima frazione. Al sesto Diop gioca di sponda per Passalacqua che colpisce la traversa da due passi. L'azione prosegue e l'interno destro di Vittorio Esposito trova la deviazione in angolo dell'estremo laziale. Non finisce la raffica di occasioni per la Civitanovese sulla battuta dalla sinistra. Salvataggio sulla linea a negare il raddoppio ai padroni di casa. Il Sora prova a scuotersi al tredicesimo Mussasec da fuori area spaventa Petrucci. Al diciannovesimo Diop viene travolto dall'uscita del portiere del Sora. Attimi di concitazione sul rettangolo verde, gara sospesa per diversi minuti. Il numero 6 della Civitanovese superato il trauma vorrebbe rientrare in campo ma Alfonsi lo sostituisce a titolo precauzionale con Ruggeri. Al ventisettesimo il raddoppio rosso-bru che dà tranquillità ai padroni di casa da un rilancio all'apparenza innocuo. Un'indecisione tra portiere e difensore ospite premia Bevilacqua che deposita nella porta sguarnita. Caparbio e Scaltro il numero 11 della Civitanovese che corona una prestazione di grande movimento e sacrificio anche in fase di non possesso. Gli ospiti producono una sterile reazione e si disuniscono anche dal punto di vista mentale. Al trentanovesimo Buonavoglia va ad un passo dal terzo gol fermato dal portiere Boscolo in uscita. Al quarantatresimo ancora Buonavoglia in percussione si dimostra incontenibile. Servizio per Makarov che ottiene solo un calcio d'angolo. Finisce 2-0 per la Civitanovese. Prima vittoria casalinga in stagione per i ragazzi di Alfonsi che rompono finalmente il tabù polisportivo e possono guardare con serenità e maggiore ottimismo agli ultimi impegni del 2024.